Sì, abbiamo detto con orgoglio che in Toscana le ferrovie non si chiudono come sta avvenendo in altre regioni, ma anzi si riaprono. Questo è avvenuto con la repertura della Siana Grosseto, è avvenuto con la repertura della Porrettana e della Cecina Salina. Ovviamente queste ferrovie, cosiddette minori, hanno un valore e una valenza anche dal punto di vista turistico. Quindi c'è sicuramente una funzione che è quella trasportistica, ma c'è anche la possibilità di utilizzare queste ferrovie come attrattore per un turismo slow che magari coniugando con la bicicletta ama percorrere i paesaggi e gli scorci del territorio toscano attraverso l'utilizzo del treno. Per consentire la progettualità e la possibilità di valorizzare queste ferrovie, la Regione, oltre a contribuire per tenerle aperte, mette a disposizione anche delle risorse per sostenere i progetti che le amministrazioni locali o le associazioni dei territori potranno fare. È un esperimento che abbiamo fatto per la prima volta lo scorso anno, ha ricevuto un notevole successo, quindi anche quest'anno, pur in una situazione di bilancio che non è semplicissima, siamo però riusciti a ritagliare delle risorse per poterle destinare a questa progettualità, sperando che in questo modo queste ferrovie vengano ulteriormente pubblicizzate, valorizzate, e quindi si incentivi all'utilizzo del treno, sia per quanto riguarda l'utilizzo appunto di chi deve andare a scuola o al lavoro, ma anche per i turisti che sicuramente possono trovare un godimento particolare, perché veramente in questi tratti ferroviari si possono godere dei pasaggi, degli scorci, che sono veramente interessanti e veramente importanti.